Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di sabato 30 aprile. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. Il titolo principale in prima dedicato all'occhialeria. Occhialeria, l'export vola, mercato interno in frenata. La Mido, la mostra internazionale dell'occhiale, torna in presenza con 50 aziende bellunesi. Oggi il taglio del nastro a Milano, marcolin ed erigo inutile, superpremio ai lavoratori della luxottica. Questa la sintesi del tema che sarà poi affrontato nelle prime pagine della sezione del giornale dedicata alla provincia di Belluno. E la fotonotizia di prima pagina, 14 secoli di storia e cultura di Feltre. Esculapio saluta il nuovo museo archeologico. Si tratta della notizia dell'inaugurazione del museo archeologico a Feltre. Una scenografica parata di colonne, sopra le quali sono posti sei capitelli ionico-italici in pietra tenera di Vicenza, ritrovati negli anni 70, accoglie il visitatore nel nuovo museo archeologico di Feltre, in cui è esposto anche il più grande esculapio trovato al nord. Già dall'esterno si ha questa visione d'insieme che invita a entrare e a scoprire il pregevole e complesso restauro che ha consegnato a Feltre il suo museo archeologico. Ma andiamo all'interno del giornale. Le prime pagine sono dedicate alla guerra in Ucraina. C'è, come sempre sul Corriere delle Alpi, il racconto della giornata. Zelensky, dare armi a noi, salva l'intera Europa. Questa una sua sottolineatura. Missivi sulla zona di Dnipro, colpite Velika e Mariansche. E ancora, riguardo alla giornata di ieri, bombe dal territorio russo sulla regione di Sumi. Lugansk e Severdonest, colpito un edificio scolastico. L'evacuazione è fallita. Colpiscono anche i feriti. Si tratta dell'evacuazione dell'acciaieria a Azovstal, oltre la catastrofe. I civili sono in trappola nei bunker da 65 giorni. Borrell è l'Aleppo d'Europa. Due cooperanti britannici catturati dai russi. Jet russi ai confini Nato. Gli USA, armi a Kiev in 24 ore. Uccise un altro volontario USA. Secondo alcune stime, i combattenti stranieri oscillano tra i 16.000 e i 20.000. Oltre i 6.000 sarebbero arrivati dagli Stati Uniti. E poi, come conseguenze della guerra, sottolineiamo, tra le altre, quelle messe in evidenza da un'intervista al ministro Orlando. La povertà rischia di dilagare se arriverà allo scostamento. Un pezzo di mondo, ha fatto presente il ministro, un pezzo di mondo del lavoro non ce la fa più. L'inflazione allarga la forbice. Nessun ricatto a Confindustria, ma una parte dei sostegni, deve andare agli stipendi. E poi, una pagina dedicata al cambiamento delle regole riguardo alle misure anticontagio. Far West Mascherine, così il Corriere delle Alpi, titola questa pagina. Da domani, primo maggio, sarà possibile non indossarle nei luoghi di lavoro. Grandi aziende pubblica amministrazione verso l'obbligo, mentre preparerà il fai dei tè in negozi e locali. E c'è anche una infografica che aiuta a capire che cosa cambia da domani. L'obbligo delle mascherine FFP2 rimane per salire sugli aerei, sulle navi, traghetti, treni, autobus, trasporti pubblici locali e regionali, bus colastici, ma anche in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi sportivi al chiuso. L'obbligo di mascherina per chi lavora o va in strutture sanitarie e strutture sociosanitarie, le RSA, in strutture residenziali, prevenziali e simili. È invece solo raccomandata la mascherina nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Esenti dall'obbligo della mascherina ai bambini sotto i 6 anni, alle persone con patologie incompatibili, chi deve comunicare con i disabili, chi svolge attività sportiva. Andiamo avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi per arrivare a quelle dedicate alla provincia di Belluno, che come detto si aprono con la notizia della inaugurazione del Mido e con un bilancio sulla stato di salute delle occhialerie. L'occhiale Made in Italy va forte all'estero. Anfao, l'associazione che riunisce i produttori di occhiali, spera in Mido la mostra internazionale dell'occhiale per il mercato interno. Il presidente di Anfao, Vitaloni, purtroppo dobbiamo ancora fare i conti con tanta incertezza, oltre che con la guerra in Ucraina. L'export è cresciuto a 4 miliardi di euro e l'area di riferimento è sempre l'Europa. Tre giorni in fiera a Milano per il Mido con 50 imprese bellunesi. Taglio del quorum, decreto pronto in attesa di una legge. Si tratta di un bilancio verso le elezioni. Il governo non ancora deliberato. Attesa tra i candidati. Nel testo anche uno sconto sul numero di firme da raccogliere. Si tratta di una norma attesa che metterebbe, per così dire, al sicuro tanti piccoli comuni dove ci si presenta una sola lista e c'è il rischio di non raggiungere il quorum e che quindi l'elezione non sia valida e il comune venga commissariato. Stadio polisportivo di Belluno. Tecnici a confronto sulle contestazioni dell'ANAC. I lavori dovrebbero iniziare tra due settimane. Sulla gara si deciderà a breve. Roccon, un errore affidare a Vicenza la stazione appaltante del comune. Il consigliere rileva appalti vinti sempre da dite non bellunesi. Bisogna cambiare. La festa dei lavoratori del primo maggio torna al parco città di Bologna di Belluno all'insegna della pace. E' questo infatti il tema dato alla manifestazione. Il SIULP lancia l'allarme. Poco personale. I concorsi non bastano. Si tratta del sindacato della polizia. Adesca le studentesse in chat. Cinquantenne e Vicentino nei guai. Con un profilo sconosciuto chiedeva l'amicizia per farsi spedire immagini in atteggiamenti sexy. La polizia costale lo ha stanato. Barriere architettoniche e giochi paralimpici provincia all'anno zero. Bisogna abbatterle. Convenio a Longarone Fiere con Lassi, l'associazione sportiva degli invalidi e la ministra Stefani. Il turismo legato al mondo dei disabili aumenta i fatturati del 20%. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Macello comunale. Si apre la procedura per 5 anni di gestione. Il valore complessivo della concessione è 940.000 euro. Il sindaco, un servizio che va ben oltre i confini bellunesi. Alamon si innalza il maio. 20 frazioni pronte a fare festa. Si ripropone sull'altopiano il rito di innalzare i larici in una sfida paesana. In paese numerosi cartelli invitano le persone a partecipare questa sera. Una pista ciclabile utile solo al Prosecco. Nel Mirino la Lentiai Vass. La protesta dalla riunione pubblica al bicicril di Busche, Mondin e dalla Piazza così buttano 13 milioni di euro. Santa Giustina. Più di mezzo milione per la lista della spesa del comune. La priorità è l'ecocentro. Borgo Valbelluna. La minoranza all'attacco sul rincaro Tari per le ditte. C'è chi paga il 26% in più. Il consigliere di opposizione dal Magro. La tariffa puntuale difficilmente entrerà in vigore dal prossimo anno. Tremea arrivare presto ad una raccolta omogenea. Premio risultato da 3.800 euro per i 9.000 addetti di Luxottica. Firmato ieri l'accordo, i sindacati. Somma mai vista grazie anche ai sacrifici dei dipendenti. Ponte nelle Alpi. Mobilità sostenibile. Decolla il progetto che unisce i comuni. Approvata in consiglio la variazione al bilancio necessaria all'iniziativa. Coinvolti anche Soverzene e i tre enti dell'Alpago. Rifiuti. Il rincaro è del 13% per utenti domestici e ditte dell'Unione Montana a Gordina. Una coppia pagherà 12 euro in più. Una famiglia di 4 persone oltre 21 euro. Costa. Non ci sono più i fondi Covid usati un anno fa per abbattere le bollette. Agordo. Festa di inaugurazione al centro Altro Senso dedicato alla disabilità. Ed eccoci a Cortina. Carling Center. Gara aperta per il progetto esecutivo. Si tenta di serrare i tempi per avviare i lavori a inizio 2023 e finirli entro il 2024. Contestualmente sarà recuperata tutta l'area esterna allo stadio del ghiaccio. Auronzo verso le elezioni. Diversi volti noti ma anche novità. Veccellio Galeno scopre le sue carte. Estate salva. Lavori in galleria da settembre. Anas fa concessioni. Chiude il cantiere 15 giorni a Natale. Ma i sindici insistono. Prima si recuperi la strada della valle. Per questa strada il territorio non cede ma i tempi saranno comunque lunghi. I primi cittadini ritengono che un progetto si possa fare in due settimane ma per i successivi passi fissare delle scadenze è quanto mai imprudente. E dal Corriere delle Alpi passiamo al gazzettino. In prima pagina il titolo principale. Tasse e imprese è scontro. Il governo prepara un taglio per i redditi fino a 35.000 euro. Confindustria non basta. Prevista anche la proroga dello sconto sulle accise e aiuti finanziari alle aziende. E poi le prime pagine sulla guerra in Ucraina. Donbass, Mosca rallenta e Kiev colpisce in Russia un piano per l'acciaieria. Il Pentagono, ritardo di giorni nell'avanzata delle truppe di Putin. A Zovostal, il tentativo disperato di evacuare i civili intrappolati. Le esercitazioni in Nato da guerra fredda con 8.000 soldati inglesi. Da maggio l'operazione Porcospino, un maxi schieramento al confine russo. Non solo manovre di terra, portaere e sottomarini in azione. Nell'Atlantico. Queste alcune notizie e alcuni titoli dedicati dal Gazzettino al tema della guerra. Mascherine, nuove regole, negli uffici pubblici raccomandata la FFP2. Circolare del Ministro Brunetta consiglia di indossarla agli sportelli e negli ascensori. In arrivo un protocollo per i privati. In settimana incontro tra aziende e sindacati. Andiamo avanti sulle pagine generali del Gazzettino per arrivare a quelle dedicate alla provincia di Belluno. Facendo una sosta prima a una pagina di cultura dedicata a questa volta al Museo archeologico di Feltre che è stato inaugurato ieri. Il titolo al Museo di Feltre e l'iscrizione magica di Anna Perenna. Dopo i lavori di restauro riapre la collezione archeologica con un nuovo percorso e tecnologie digitali sulle origini della città. Dai popoli retici alle conquiste romane. Ed eccoci alla parte di Belluno. Galleria Comelico. La chiusura slitta all'autunno. Il Comelico salva la stagione turistica. Anna sconcede l'avvio dei lavori dopo l'estate. Ma la consegna avverrà entro giugno. Fallisce il tentativo di mediazione del prefetto con i sindaci. La linea dei comuni prima sistemi nella strada della valle. E le prime pagine del giornale sono dedicate proprio a questo tema. Galleria fumata nera ma questa estate è salva. Nessun accordo Anna sindaci sulla chiusura per i lavori. Dopo l'ennesimo tavolo in prefettura la società ha annunciato che il tunnel sarà aperto fino all'autunno. Non cediamo di un passo prima la strada poi le opere. Questa è la posizione dei sindaci e la strada di riferimento è quella della valle che costituirebbe una alternativa alla attuale galleria consentendo la continuità del transito da e per il Comelico. Anas corre col piano. La consegna lavori va fatta entro giugno. L'affidamento alla ditta è urgente per reperire poi le materie prime. Ma la società stradale garantisce che l'opera inizierà solo fra alcuni mesi e quindi l'estate sarà salva. Andiamo avanti ancora sul gazzettino di Belluno Mido su Il Sipario 50 ditte bellunese Siamo pronti noi Siamo pronti noi L'eccellenza Anche Confindustria Dolomiti e Louis Business School oggi all'apertura della più grande fiera dell'occhialeria a Milano La presidente di Confindustria Belluno Bertone Ci presenteremo al meglio Questo è un nuovo inizio Faremo la differenza con il Made in Dolomiti Paralimpiadi Cortina deve diventare accessibili La ministra per la disabilità Erika Stefani ieri a Longarone al convegno di Assi l'Associazione Sportiva dei Disabili Bisogna investire sulla montagna ha sottolineato Per il 2026 necessario abbattere tutte le barriere architettoniche i giochi un'occasione di forti messaggi a ribadito Assegno per il lavoro Bellunesi fanalino di coda solo 2800 quelli richiesti In quattro mesi addio a 86 imprese soffre il commercio l'edilizia vola Adesca ragazzini in chat 50enne smascherato l'uomo fermato grazie alla segnalazione di una scuola cittadina di Belluno dove alcune studentesse erano finite nella rete L'indagine diretta dalla procura per i minorenni di Venezia condotta dalla polizia postale bellunese che è risalita al 50enne sul web La tecnica era consolidata l'amicizia sui social e poi chiedeva alle adolescenti foto e video osè L'allarme della polizia con la pandemia in aumento il tempo online di conseguenza i rischi di questi fenomeni aumentano a danno dei giovani BIM-GSP patrimonio in crescita utile di 17 milioni i soldi andranno per gli interventi il presidente Sommavilla le priorità, cantieri e progetti innovativi un utile consistente derivato da vendite a Ascotrade un museo che onora la nostra storia anche la pagina di Feltre si apre con la notizia dell'inaugurazione del nuovo museo archeologico archeologia e digitalizzazione si intrecciano mettendo in risalto reperti di assoluto prestigio in parte nascosti per anni solo i giovani vogliono andarsene la lista Un civico per ogni civico di San Gregorio delle Alpi ha illustrato l'esito dei 280 questionari compilati dai cittadini l'82% dei residenti ama il proprio paese inoltre più della metà ha detto di averci fatto ritorno e Alamon il candidato Pante tanti incoraggiamenti mentre si lavora a ultimare la squadra viene illustrato il logo che punta su amore e speranza di un futuro migliore bilancio florido a Santa Giustina avanzano anche i fondi covid un milione di euro di avanzo e i sostegni non richiesti dalla gente Querovas tempo di decidere sulla fusione con Alano di Piave Borgo Valbelluna congelato la parola scritta tra virgolette il nuovo polo scolastico demolite nel 2020 le vecchie scuole il cantiere per quelle nuove avrebbe dovuto partire già nel 2021 ma tutto è fermo il progetto approvato prevede un investimento di 6,6 milioni la burocrazia frena e i costi rischiano di lievitare parecchio sci il gran finale in scena sul Faloria a Cortina condito con i cibi dei migliori chef oggi e domani ultimi due giorni di una stagione record per giorni di apertura con il ritorno della rassegna food Essilor Luxottica accordo sul premio di risultato l'intesa tra azienda e sindacati consentirà ai dipendenti di ricevere fino a 3.500 euro e per lo sport primo maggio alimana la festa dei sognatori da domani partite alle 16.30 dall'eccellenza alla seconda categoria di calcio campo principale quello di la Cal Avimana dove la squadra dei parteli ha la prima possibilità di promozione si chiude qui questa edizione della rassegna stampa a tutti voi il più cordiale a risentirci